La mia famiglia, i miei amici, sono momenti come questo che mi ricordano quanto io li ami. Appassionato, allegro, mio fratello Carlo parlerebbe solo delle sue veleggiate in barca e della sua Nadia naturalmente. Laura invece ha sempre amato i cavalli ed è così orgogliosa che sua figlia abbia la stessa passione. E poi ci sono loro, i miei genitori, che mi hanno insegnato ad amare attimi semplici e genuini come questo. Il mio momento preferito, quando ho detto a mio marito che sarebbe arrivato Matteo. Le nostre sono passioni di famiglia, esattamente come quella che Piccini mette ogni giorno nel creare i suoi vini così profumati, vellutati, dal gusto morbido e inimitabile. Sono frutto di una storia lunga quattro generazioni e costellata di momenti unici, indimenticabili. Orange Moments. Fotografa e condividi anche tu i tuoi momenti speciali. Grazie al tuo Orange Moment potrai vincere una Jeep Renegade e tanti altri premi. Piccini. Insieme con gusto.